Alberto Buzia In teoria mi sarei dovuto occupare esclusivamente del lato luci-video e poi con l'andazzo del tempo ho iniziato a lavorare sia con i sistemi interattivi, i software tengo sotto controllo un po' i vari processi il lato tecnico, la strumentazione, qualsiasi cosa serva Ma perché sei qua? Ti ha creato qualcuno? Ci hanno invitato Ci sono occupati praticamente di questo di un po' di grafica e tutto quello che ho fatto In grafica abbiamo preparato per esempio il layout del sito che si vedrà poi durante lo spettacolo una cosa che non so bene che possa essere che attraversa lo schermo e fa esplodere una palla Ho fatto l'Accademia di Belle Arti Hai pagato? Cioè gli hai dato delle somme? Sì, per farmi partecipare Ah ecco Quello che è stato creato è una simulazione di un pseudo sito di una chat erotica Ehm... Poi il significato... No... No vengare Ehm... 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 Ehm...